Questo è un passaggio fondamentale. Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Questo è un ottimo modo per sostenermi. Molti me l'hanno chiesta, ma io non l'ho mai data. Oggi svelerò la ricetta segreta del mio ketchup. Vediamo come fare. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 700 g di passata di pomodoro 700 g di acqua 140 g di zucchero semolato 140 g di aceto bianco 14 g di sale 28 g di salsa Worcestershire 10 g di amido di mais Il procedimento è semplicissimo In un pentolino abbastanza capiente verseremo tutti gli ingredienti tranne l'amido di mais che verrà aggiunto solamente alla fine 15 g di sale Ora, a fiamma bassa e con l'aiuto di una frusta giriamo per far sciogliere zucchero e sale e amalgamare il tutto Aggiungiamo l'acqua Quando siamo sicuri che lo zucchero e il sale si siano sciolti possiamo lasciare arrivare all'ebollizione con la salsa Lasciamo sobollire delicatamente fin quando non si ridurrà di un terzo circa e ricordiamoci di mescolare spesso con una frusta Ora andiamo a preparare l'amido di mais Questo è un passaggio fondamentale Dovremmo aggiungere un po' di acqua fredda all'amido e amalgamare il tutto con un cucchiaino Adesso è pronto per essere aggiunto alla salsa Si è ridotta a sufficienza Versiamo l'amido Continuando a mescolare E lasciamo ridurre ancora per 10-15 minuti Bene La salsa ketchup è pronta Freddandosi si raddenzerà ulteriormente Possiamo spengere il fuoco e al ristorante andrebbe messa a freddare in abbattitore Mentre a casa La lasciamo a temperatura ambiente fino a raffreddamento completo Ed ecco la consistenza una volta freddata Come vedete molto più densa di quando era calda Adesso possiamo trasferirla in un contenitore e mantenerla in frigorifero per circa 7 giorni Siamo arrivati alla fine di questo video Se la ricetta vi è piaciuta mi raccomando lasciate un like Vi aspetto per la prossima ricetta Ciao Ciao